Allora, salve a tutti, grazie a Marcello che ha volto anche noi questa bellissima manifestazione. Noi vogliamo onorare, partendo dal nostro quartiere, noi siamo di Ponticelli, siamo Carlo e Antonio, siamo una piccola parte della nuota molto organizzata. Veniamo da Ponticelli, come dicevo, vogliamo ricordare quello che era Ponticelli. Ponticelli era un paese rurale prima degli anni Ottanta, prima del mal terremoto, e poi c'è stata una grossa speculazione eridizia che ci ha tolto quella che era la vericità della tamurra, degli incontri per questi eventi. Noi avevamo dei grossi cantori, la mia bisnonna la chiamava Rosaria Masanella, era una grande tamurrara, poi c'è stata Pasticella, che pure era un grande tamurrara, poi ci sono le voci di Pasquale Ugalavallata, Fifio, Futtaiul, voci che ci rimangono nella mente, ma sono scomparse per quello che abbiamo subito. E noi stiamo, io personalmente mi sono affezionato molto al fenomeno dei Zesi, perché loro hanno fatto, hanno risercato il territorio, e hanno onorato tutti i cantori di millenni di storia, facendoli diventare armi per denunciare ogni sorta di disagio sociale. E soprattutto voglio onorare Marcello, Matteo Donofrio, Sebastiano Miciariello, che oltre ad avere avuto la fortuna di suonarci insieme, sono anche molto legati effettivamente. E voglio onorarli con un pezzo simbolo dei Zesi, che è Vesuvio, anche perché ce l'abbiamo qua vicino e lo sentiamo molto nostro. C'è Vesuvio, 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 C'è Vesuvio,